Luciano Zauri non è più l'allenatore del Pescara, Presidente, pochi minuti fa sono arrivate le dimissioni del tecnico che la società ha accettato. Sì, la società ha preso atto della decisione del Ministero, che comunque ringrazio prima di tutto perché ha dimostrato ancora una volta se ce n'era bisogno che è una grande persona, un gran signore ma una grande persona. E credo che di queste persone in giro non se ne trovino, quindi per me, per Giorgio, per Antonio è una grande sconfitta perché quando le cose non vanno come uno si aspetta sicuramente non è un aspetto positivo. La sconfitta con la Salernitana probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché nelle ultime giornate prima della sosta il Pescara non aveva fatto benissimo sul piano dei risultati e del gioco. Una sola partita vinta con il Livorno e soprattutto in casa vittoria che manca da quasi tre mesi. Sì, sì, non aveva fatto benissimo, perché qui purtroppo si guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto. Noi siamo, leggo oggi che siamo a tre punti dai play-off, però nessuno dice che siamo a due punti dai play-off, quindi ognuno la guarda come vuole. Veniamo dai risultati, da un pareggio col Chievo che credo che non sia l'ultima squadra arrivata. Veniamo dalla vittoria di Livorno che domenica ha fatto quattro gol a Lentella. Quindi, voglio dire, così sfigati proprio non ci siamo. Però è chiaro che dopo la partita di ieri, soprattutto come è avvenuta la partita di ieri, probabilmente il mister ha pensato che forse qualcosa non funziona e che se il problema poteva essere lui si è fatto da parte. Ma ripeto, a dimostrazione della grande persona che è Luciano Zauri, oltre che secondo me è un bravo allenatore. Presidente, in questi minuti già impazza il toto allenatore, però le grottaglie dirigerà l'allenamento. Potrebbe essere lui il traghettatore del Pescara fino a giugno? Ma noi sapete che non ci siamo mai preoccupati. Se siamo convinti di fare delle cose, le facciamo. Adesso è troppo presto per dire chi sarà l'allenatore del Pescara, perché ci prenderemo il tempo per decidere. Giuseppe Pillon, un nome che è tornato di attualità, potrebbe essere anche questa un'ipotesi. Non vi eravate lasciati benissimo lo scorso anno. Questa è un'altra bugia grossa, perché non è vero, non ci siamo lasciati benissimo. Io col mister mi sono fatto gli auguri, mi sono sentito, con Giorgio si sente spesso, quindi non è assolutamente... Non a livello personale? No, no, ma quando uno non è d'accordo su delle cose, non è che nella vita bisogna essere onesti e obiettivi. Quando si è onesti e obiettivi e si dicono le cose in faccia, non significa necessariamente discutere o litigare con le persone, tutto qui, ma con Pillon non abbiamo mai discusso. Ci siamo confrontati, io ho detto le mie idee, ho esplicitato le mie idee. Lui ha fatto comunque quello che voleva, perché nessuno gli ha mai obbligato nulla, come peraltro a nessun altro allenatore del Pescara, per cui le strade si possono anche potenzialmente rincontrare. Ma oggi, ripeto, stiamo parlando di una cosa che è da decidere e da venire, perché comunque sia in questo momento non abbiamo ancora deciso nulla e non abbiamo parlato con nessuno, soprattutto. Però c'è anche Pillon tra i nomi dei papabili a guidare il Pescara? Ci sono quegli allenatori che noi reputiamo bravi e che sono liberi, è chiaro. Altri nomi? Si parla di Marino, di Stellone? Ripeto, altri nomi, così come quello di Pillon, sono fuori luogo in questo momento, perché non abbiamo né contattato, né parlato con nessuno e né pensato ad uno di questi in particolare. Quindi nelle prossime ore, può darsi anche nei prossimi giorni, decideremo. Potrebbe dunque a Udine il Pescara giocare in panchina le grottaglie? Perché no? C'è il patentino, perché no? Quindi potrebbe anche dirigere quella partita le grottaglie, nel frattempo noi avere il tempo per parlare e per capire con questi allenatori, perché adesso prendono la decisione affrettata, secondo noi non sarebbe quella giusta e quindi potremmo noi decidere con tranquillità, soprattutto confrontandoci con i tecnici, se decidiamo che vogliamo andare su un altro allenatore. Presidente, sono arrivate queste dimissioni pochi minuti fa e qualche giorno fa c'era stato il caso Memushai, poi risolto dopo quello che era accaduto a Livorno. Possono essere ricollegate le due cose? Non c'entra assolutamente nulla, non c'entra assolutamente nulla con il caso Memushai. C'era stato uno scollamento forse tra spogliatoio, squadra e tecnico? Guardate, io ripeto, non sono assolutamente d'accordo, non eravamo tutti noi, sia io, Giorgio, che Bocchetti d'accordo nel cambiare allenatore. Evidentemente il mister ha ritenuto che per dare, probabilmente cercare di dare una scossa a quest'ambiente, dovesse fare un passo indietro lui. Noi, ripeto, io lo ringrazierò sempre, Luciano, perché con noi ha fatto cinque anni, ha vario titolo da giocatore, collaboratore, allenatore della primavera, adesso allenatore della prima squadra, io non posso che essere soddisfatto di quello che è stato il lavoro di Luciano Zauri, sia da giocatore che da allenatore con noi. Mi dispiace che si arrivi a questa situazione, perché quando si arriva a una situazione di questo tipo, è una sconfitta, vuol dire che le cose non sono andate benissimo. Però è anche vero che noi dobbiamo anche cominciare a capire che cosa vogliamo fare, perché se in questo campionato in generale, se dobbiamo assistere ai cambi di allenatore per squadre che sicuramente non sono partite con intenti di fare sfracelli, alla prima sconfitta avere le problematiche, vuol dire che fra qualche anno le società di calcio cambieranno quattro allenatori all'anno. Questa è la piega che sta prendendo questo torneo, questo campionato, nel quale vi devo dire che purtroppo non ci sarebbero neanche le risorse per fare queste follie, che in generale si vedono ogni anno. Quindi noi non siamo di quella pasta lì, lo sapete, lo sapete benissimo. Presidente, ma se non fossero arrivate pochi minuti fa le dimissioni di Zauri, si sarebbe andata avanti con il tecnico di Pescina? Noi stavamo facendo una riflessione insieme al mister, stavamo parlando insieme al mister, però chiaramente io credo che il mister abbia inteso anticiparci in questo senso perché a mio avviso crede che forse in questa maniera si possa dare una scossa e credo che questa cosa gli faccia veramente onore perché vuol dire non solo che le dimissioni in questo paese non sono sicuramente di moda, ma vuol dire che tiene anche a questi colori e questa è la cosa che a me da presidente mi fa più piacere. Ieri c'era stato il colloquio dopo la partita con la Salernitana, probabilmente lì era accaduto qualcosa, era maturato qualcosa nella testa di Zauri quantomeno. No, no, ma quello era forse più nella sua testa appena è finita la partita, ma tra di noi c'è stato solo un sano colloquio cercando di sviscerare quali erano le problematiche e basta. Ultimissima presidente, a questo punto la squadra deve prendere coscienza delle proprie responsabilità. La palla passa anche ai giocatori? La palla passa ai giocatori come passa a tutti quanti noi perché è evidente che le colpe non possono essere sempre solo di uno. In questo mondo il malcostume è che la colpa è sempre dell'allenatore, ma le colpe vanno divise tra tutti, in primis la società, l'allenatore, i giocatori, così come poi vanno divise le gioie. E quindi i giocatori devono fare la loro parte, devono pensare a giocare, pensare a dare il massimo e poi magari possono criticare o possono dire a loro. Perché purtroppo molte volte si rischia che lasciarli parlare troppo, i giocatori, si fa un po' di confusione. Ultimissima presidente, facendo un gioco di percentuali, quante percentuali potrebbe avere Pillon e di tornare sulla panchina del Pescara? La stessa percentuale possono avere gli altri, la stessa percentuale può avere le grottaglie di Guiderio e Pescara. Quindi siccome non abbiamo deciso nulla, zero tutti.